Un vero e proprio caos che rende turbolente le ore precedenti l'ultima giornata di campionato di Serie B e la lotta salvezza. Il caso Lanciano ha lasciato strascichi anche nell'assemblea di Lega di ieri con il botte e risposta piccato tra il presidente Andrea Abodi e la numero uno della Virtus Lanciano, Valentina Maio. Abodi vuole lo slittamento delle date dei play-out per consentire alla giustizia sportiva di fare il suo corso in merito al nuovo deferimento che dovrebbe arrivare a carico della Virtus Lanciano Di fronte alle resistenze della Maio la decisione è stata probabilmente solo posticipata. Come se non bastasse si è messa in moto nelle ultime ore anche la procura generale del CONI che ha fatto ricorso presso l'alta corte di giustizia avverso la sentenza della Corte federale d'appello. Lanciano, ma persino la Federcalcio, chiamate a rispondere per quel verdetto che ha restituito ai frentani tre punti. Due di questi potrebbero essere rimessi in discussione. Tra deferimento in arrivo e questo ricorso è chiaro che la società frentana si sente praticamente accerchiata. La partita di domani porrà i rossoneri di fronte al Livorno, una gara determinante che se la Virtus dovesse perdere potrebbe comportarne la retrocessione diretta, fatto che andrebbe a sgonfiare il caso. Se la Virtus dovesse collezionare un risultato utile con tanto di salvezza diretta o ingresso ai play-out, ricorsi e deferimenti costituirebbero l'ancora di salvezza cui le retrocesse si aggrapperanno per salvare capra e cavoli. Il tutto mentre il club di Via Decrecchio aspetta finora vanamente di sapere che fine abbiano fatto quei treni del gol che hanno spedito il Catania in Lega Pro, ma sui quali al momento nessun'altra società sembra essere salita.